Tu sei sicuro di questa cosa? Cioè tu sei proprio convinto di voler fare questa cosa? Ormai È andata La nostra disegnata vittima Paura A stare seria Benvenuti Benvenuti nella quinta puntata di Small Talks Wow Sono contento Grazie Grazie a te Per esserci A te non te lo dirò grazie Perché ho paura per quello Non te lo dico Ecco qua Subito Subito partiamo Benvenuti 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 Grazie Grazie E io partirei subito Con la prima domanda che è subito Subito Ce lo togliamo davanti Perché tanto lo so che succedeva questa cosa di subito Subito Esatto La prima domanda Super semplice Perché stai respirando? Perché stai respirando? Ringrazio che non ho respirato dentro al microfono per te Ok Allora La prima domanda è molto semplice Ed è semplicemente una domanda dettata dalla mia laziness Ed è semplicemente presentatevi A turno Cioè non sarò io a dire Ecco con noi Ecco con noi Flaminia Genoese Esatto Vai Vai Ecco con noi me stessa Ciao sono Flaminia Genoese Ho 32 anni Vengo da Roma Foto modella Faccio la danza Ok Faccio altre cose creative vicino alla danza Che sono importanti tanto quanto la danza E sono qui per conversare con queste due persone molto interessanti Infine Wow Wow C'è partita proprio La bomba Prego Ciao a tutti Ricky Benetazzo Anche io faccio la danza 35 anni prossimamente a maggio Come si porta bene regà Come si porta bene Benetazzo E basta Quindi anch'io Sono qui per conversare Parlare un po' di danza Ma anche di non danza Ok In quanto appassionato anch'io di tante altre discipline Tante altre cose Quindi Vedremo dai Ok E tu chi sei? Che sei qui a farci le domande Scusa Lascia perdere È complesso Tu chi sei? È molto complesso Presentati Che è la terza Al terzo sembra Ciao a tutti Sono Andrea Le Manno E non bevo da Sembra questa roba qua Quindi forse la eviterò Allora Visto che la prima Ce la siamo tolta davanti In maniera molto molto semplice Adesso iniziamo A fare un pochino le cose Serie Domanda Oddio Difficile Come avete iniziato a fare quello che fate E che tipo di formazione avete Per fare quello che fate Decidete voi chi vuole iniziare prima Io voglio sentire la risposta Io voglio sentire la risposta Erika Quindi Ti hai fognato subito proprio Subito Under the bus Partendo brevemente dall'inizio Io inizio diciamo ad approcciarmi realmente a fare questo Sui 13-14 anni Quindi andare a scuola di danza Per imparare a fare quello che io già facevo Diciamo in stanza da solo Semplicemente perché da gran sportivo Ho sempre avuto tante passioni Però non ho mai portato avanti Diciamo una carriera in queste varie passioni Le ho sempre tenute come L'extra I hobby Esatto bravo E avendo la grande passione anzitutto per la musica Quindi per ore e ore di ascolto di musica Poi inizio così È fulminante per me Vedere il concerto Dangerous di Michael Quando nel 93 E quindi per me Uno a caso proprio Esatto E quindi da là Inizio a vedere quel sogno Inizio quindi ad andare A iscrivermi a scuola Faccio tutto un percorso di studio Su varie scuole di paese Io sono in provincia di Padova Da lì Tramite vari passaggi di crew contro crew Piuttosto che il gruppetto Dove inizi a muovere i primi passi Stringo una grande amicizia Diciamo che è quello che per me Il turning point vero Con Mike Quindi in quegli anni Facciamo tante cose assieme Viaggiamo insieme Andiamo a Los Angeles A studiare un po' E quindi portiamo Cioè veniamo Ritorniamo qui Con un bagaglio di conoscenze Molto più ampio E una visione molto più Non provinciale Di quella che avevamo prima Non che noi Ce l'abbiamo mai avuta Dentro Però in realtà Da molto curiosi Io in primis Abbiamo sempre visto Cosa c'era fuori E questa voglia Ci ha portato tanto A studiare E da lì poi Ritornando un pochino In quello che è Il nostro La nostra Diciamo patria Che è Sì ok L'Italia Ma soprattutto La nostra zona di Padova Comunque il nord Italia Abbiamo cercato di costruire lì Una situazione Di hip hop Molto coreografico Inizialmente Però comunque Ha detto Ha detto hip hop Sì sì L'ho detto L'ho detto Ha detto hip hop Attenzione ha detto hip hop Sì perché dopo qui Parte tutta una diatriba Sì 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 Qua Io Inizialmente Non tanto per il discorso Dell'insegnamento Ma puramente per Quello che io dico Che è l'ascolto Di quello che Della scena che vivevamo Ho toccato vari aspetti Di questa E fortunatamente poi Il bagaglio mi ha fatto Scegliere Optare per una cosa Che mi piace di più Che è quella del Ok la musica underground Ok la cultura underground Ma portata anche sui palchi Quindi secondo me Le due cose Già da lì Non avevano una visione univoca Ed è stato quello Secondo me Quello che poi Mi ha fatto evolvere Nella figura di una persona Che ok sì È conosciuto attualmente Come coreografo Ma inizialmente Ha fatto lo step Magari prima del bravo Esecutore Ballerino Del bravo Insegnante Magari Negli anni Perché inizialmente Nonostante mi piacesse Sono pienamente cosciente Che non avevo le capacità All'epoca Che ho iniziato Quasi prima a lavorare Che imparare a ballare Nel senso Questa cosa qua Col seno di poi È stata buona Da un certo punto di vista Ma sicuramente opinabile Da un altro punto di vista Certo E quindi Rapidamente Queste sono state le evoluzioni Ho conosciuto tante persone Che mi hanno fatto Mi hanno dato modo di aprire Il mio modo di concepire Non solo La danza come lavoro Ma la danza proprio come arte In generale E quindi questo Mi ha portato Ad avere una sorta di Accettazione Di quello che sono io In primis E del prodotto Quindi che creo E quindi in automatico Sono qui Semplicemente perché L'evoluzione Mi ha portato a essere Ricchi A essere riconosciuto Per quello che fa Quindi Tutti gli step Anche te stesso Ti ha portato Assolutamente Tu ti sei portato A essere riconosciuto Per quello che fai Sicuramente Perché anzitutto Ho capito che il percorso Che io ho fatto Mi ha portato a Accettare E migliorare Gli aspetti Che io conoscevo Anche da altre persone E tramite altre persone All'interno dell'ambiente Danzistico Quindi in questo caso Cioè banalmente Se non fossi stato tu Cioè la realtà dei fatti È che sì Come tu hai detto Magari hai iniziato Prima a lavorare Che a studiare Realmente A ballare realmente Tutta la parte Diciamo tecnica Tra virgolette Però se non fossi stato tu Probabilmente a un certo punto Si interrompeva quella cosa Sicuramente Quindi il fatto Che tu hai compensato Hai studiato Tutta quella parte là Sicuramente Ti ha portato adesso A essere Assolutamente Quello che sei Assolutamente è stato utile Questo rendersi conto Che per fare Diciamo una cosa La costruzione Di non solo Un insegnante Un performer Quel che si vuole Un coreografo Parte tutto Da una formazione Su te stesso Su quelle che sono Le tue competenze E incompetenze Lavorando proprio Per capire di colmare Quelle che sono le incompetenze In modo tale Da trovarsi Nella posizione Di poter Adempire un compito Che ti viene affidato O che decidi Di autoaffidarsi In maniera Affidarti in maniera Consapevole Di quelle che sono Le tue capacità Che wow Questa cosa che hai appena Sì hai detto Della roba veramente Cioè super Super importante È un quadro È un quadro Fatto proprio Ad hoc Non tutti sono Così Consapevoli Che questo È quello Di cui c'è bisogno Per trovarsi bene Poi nella maggior parte Dei casi No Perché non ti capita Solo una cosa Nella carriera Anzi Infatti No ma è proprio Per quello che dicevo Che è poi diventato È rimasto Ricky Perché lui Ha deciso Di approcciarsi Ma anche dalle ultime frasi Che hai detto Era palese Questa cosa Cioè quanta gente Si mette in discussione Dice no aspetta Mi mancano queste skills Quindi adesso Mi metto Lavoro su quello Che mi manca Cerco di Non tanta Soprattutto la gente Che inizia a lavorare Molto presto Poi ti do un'altra cosa Che magari Dipende poi Anche dalla mansione Che vuoi avere nella vita Nel senso che Non è necessario Che tu acquisisci La skills Come dici Pienamente In maniera teorica E pratica A volte Quando sei un coreografo Per esempio Non è necessario Che tu sia il numero uno Nel breaking Per poter Aiutare Un breaker Domani A rendere su un palco A livello coreografico Quindi sicuramente Quando dico appunto Studiare Non è solo lo studio Proprio su di sé Fisicamente Ma è anche su Capire cosa c'è Come Tutto ciò che sta intorno A quello che voglio fare Però soprattutto Secondo me Se la motivazione Dietro a tutto questo È perché Io voglio diventare Più competente Voglio diventare Più consapevole E non perché Qualcuno ha Qualcuno mi ha detto Che funziona così E quindi ho bisogno Di questo e quello Perché no Poi gli altri In realtà non possono mai sapere Quello di cui tu personalmente Hai realmente bisogno E B Perché se per farcela Si intende Saper fare Tutto questo tot di cose Piuttosto che farcela io A conoscerle tutte Allora poi La motivazione per cui Non l'ho detto proprio in italiano La motivazione per cui La motivazione per cui Uno va verso Quella conoscenza È fondamentale Per fare in modo Che tu sia La persona realmente Soddisfatta Dalle tue conoscenze E che tu possa Mettere poi Nel tuo prodotto Quello che però Realmente a te interessa Perché poi Non si finisce mai Di imparare Se vogliamo pensare Di sapere Quante più cose possibili Non è detto Che sia Quella la chiave Tra l'altro per me Già il fatto Di essere consci Di avere delle lacune In determinati punti È già il primo passo Perché c'è gente Che non è proprio Conscia di avere Delle lacune Vabbè ma non Vabbè Non divaghiamo E passiamo a Vai vai Ma com'era la domanda C'è la Perché Come sei arrivata qui Siamo andati Dove stiamo andando Su questa terra Su questa terra Come avete iniziato A fare quello che fate Che tipo di formazione avete Ok Ok Allora Ho iniziato a ballare Proprio da mini piccolissima Mini piccola vuol dire Tipo cinque anni Facevo tutte le danze Possibili e immaginabili Quindi in realtà Il fatto di aver iniziato così Può sembrare soltanto Una curiosità infantile Quando in realtà Ha determinato Tutto il mio percorso Questo mio Voler fare tante cose diverse E Per cui mi è rimasta Questa sorta di impronta Di versatilità Nella curiosità Del mio corpo Più che altro Hai visto che si sta già perdendo Cioè è partita proprio Sta andando La sta prendendo lontanissima Hai notato Sta cercando di rientrare Dentro me stesso Non ci sta riuscendo Ce la farò mai Parlerò per sei ore Vai Per questa domanda Quindi poi in realtà Come ho iniziato La mia carriera È completamente a caso Semplicemente perché Ci sono state delle persone Che mi hanno fatto Credere che era possibile Perché io non sono Una di quelle persone Che è cresciuta Con voglia diventare Qualcuno nella danza A me piaceva solo Tantissimo E vedevo che Soddisfava la mia curiosità Sia sotto un punto di vista Corporeo Quindi era un'attività Che facevo con il mio corpo Che mi appagava tantissimo Al contrario di tanti sport Che ho provato a fare Che erano magari Meno comunicativi Erano più competitivi Io sono competitiva Ma non esageratamente E poi niente Lo facevo tantissime ore Di più di una persona normale Che va a danza e basta Ma non con il pensiero Di un giorno questa cosa Mi frutterà questo Ed è il motivo Per cui l'ho fatto Cioè il motivo Per cui mi ha fruttato questo Cioè mi ha fruttato una carriera È perché mentre lo facevo Ero completamente Solamente immersa Nella passione Per quello che facevo E non nel risultato Totalmente Tutto Dalla prima soddisfazione enorme Che è stata insegnare in America A 19 anni Quando non pensavo minimamente Nemmeno di voler insegnare Nella mia vita Quindi fortunatamente In quel momento Ero spalleggiata Da due persone Alessandro e Filippo Degli ENAF Che mi hanno aiutata Chiaramente Noi in quel momento Abbiamo preso questa missione In tre Però oggettivamente Che ero piccola E solo appassionata Non è che sapevo molto Però effettivamente Mi rendo conto Che anche quando ti accadono Questo livello di cose Quando tu pensi di non essere pronto È proprio perché Tu ti stai dedicando Esageratamente Alla passione che hai In quello che Che stai facendo E il mondo ti risponde Con la stessa Con la stessa tipologia Di entusiasmo Non so come dire E quindi poi da lì Sono successe tantissime cose Sia a livello di coreografa Sia a livello di ballerina Un po' meno da ballerina Perché ho sempre saputo Che rispettare degli ordini Non è propriamente La mia Ah no No Non è propriamente La mia materia Diciamo Però è bello anche questo Cioè nel senso Io non mi sono mai sentita limitata Da questo mio tratto caratteriale Mi sono sempre sentita invitata Ad esplorare tutto quello che era Il resto Quindi Conoscersi è molto importante Anche conoscersi poco Però essere certi Di quelle due tre cose Tipo A me gli ordini non mi piacciono E prendo delle cose Anche molto banali Come guarda Metti il braccio qui Come un ordine E non Questo è da quando Ho cinque anni Che è così Quindi Tendenzialmente A un certo punto Questo è diventato Un tratto Che si è manifestato Nella mia arte Perché sono sempre Cercata di essere Più coerente possibile Quindi magari poi Tendendo più Verso scoprire La mia creatività Scoprire che cosa Significasse appunto Essere lì Senza comandi dall'esterno Quindi che ruolo Si può ricoprire Vuoi comandare in realtà Ammettilo Vuoi essere quella che comanda Voglio comandare Voglio comandare in una In un'accezione Molto Immaginativa Cioè voglio dire Cosa c'è nella mia immaginazione Questo sì Non voglio comandare No dai ero ironico Giuro Non dovevi rispondermi seriamente No però perché Perché realmente In realtà Tanti che fanno il mio lavoro Vogliono comandare Beh io ero ironico però No io no Io no Quindi in realtà C'è un lato Del fare il coreografo O avere delle persone Sotto di te Che potrebbe portare A questa tipologia Di sfogo Diciamo Di dinamica Però in realtà A me piace tantissimo Comandare nell'accezione Di cazzo Ho una bellissima idea Fatemela fare Dato una parolaccia Non si possono dire parolacce No non è vero Sto scherzando Si possono dire Puoi dire tutte le parolacce Che vuoi E quindi questo Quindi Alla fine Diciamo che Non l'ho Non l'ho mai realmente Desiderato Quello che ho sempre desiderato È stato Dire la mia Essere appassionata Beh Semplicemente Esprimere la tua arte Si Si dice così Alla fine Si In maniera diretta È quello Alla fine Che fai Grazie Virgo Per aver riassunto In una frase Ma si immagini 5.000 Anzi ma se lo immagini Ma se lo immagini Allora io in live Per far vedere Che è tutto vero Farò una cosa A proposito di Virgo Che mi stava infastidendo Tantissimo Ed è questa Dove ce l'hai Il cavetto dietro Eccoci qua Madonna mi stavo Infastidendo troppo Eh sì lo so E succede anche questo Allora io Andrea Avanti Vai Se voi siete d'accordo Yes La prima domanda La prima La seconda In realtà ce l'abbiamo fatta Liscia dai Liscia Va bene Allora abbiamo Terza domanda Quali sono le principali Influenze culturali Ed artistiche Che hanno plasmato Il vostro stile Coreografico Fico Questa volta parti tu Perché prima hai fatto Partire Ricky Quindi a questo punto Ci alterniamo Sì Allora Quali sono le influenze Sessi Mi sta concentrando Sulla domanda Sì 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 Allora Fico Nel senso Vuoi che faccio Partire Ricky No 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 Cioè che succede Succede che in realtà Tutti quanti siamo Riassunto Di tutte le cose Che conosciamo Che abbiamo visto Che abbiamo esperito Anche solo per Nella vita in generale Certo assolutamente Quindi in realtà Mi verrebbe di rispondere così Cioè mi verrebbe di risponderti Io non lo so So che sono No però focalizzati Sulla parte anche Coreografica Danza Danza sì esatto Vabbè l'America Anche se è la risposta Un po' più banale ovviamente No certo 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 Infatti stavo cercando Di essere più concreta E meno ariosa In questa risposta Cioè Tendenzialmente L'America È tutto quello che è Diciamo Quello che ho imparato Andando in America Mi sembrava molto Più vero Di tutto quello Che imparavo Negli anni in cui Ho iniziato A studiare Un po' più seriamente Perché poi a una certa Mi sono accorta Che dovevo fare questo Nella vita Che l'avevo presa Seriamente E quindi ho detto Ok let's go Alla fonte Quindi la fonte È stata Los Angeles Per me E quindi significa Che lì Mi guardavo intorno In maniera molto più Cioè mi rendevo conto Che quello che c'era Era molto più radicato Rispetto a quanto Magari Noi ricevevamo Qui il riassunto Del riassunto Della rielaborazione Tra l'altro Mi gioco subito Una cartuccia Così Approfitto del fatto Che hai nominato Los Angeles E tutta la parte Dell'America Che so ovviamente Che anche tu hai vissuto Per un bel periodo All'epoca Quindi in quel periodo In cui voi magari Avete vissuto l'America Avete studiato tantissimo Ovviamente ne ho nomino Una su tutte Che è il movement Lifestyle Come scuola di danza Ovviamente era proprio La mecca In quel periodo Della danza coreografica Chiamiamola così All'epoca Mi ricordo Quando io organizzavo Eventi di danza Che erano I dance camp Comunque vari Eventi di danza Spessissimo In quel periodo La facevano da padrone Gli americani come coreografi Quindi tu chiamavi solo americani A fare lezione E mi ricordo Che iniziava Tutta la diatriba Sul stile Su Come si chiamava Lo stile Tutta quella parte là Mi ricordo questa cosa Prefettamente Che in Europa O in Italia Non lo so Comunque tutti dicevamo Il lay style All'epoca Però mi ricordo Chiaramente Che agli americani Questa cosa Non piaceva per niente No per niente Un pensiero Che ho avuto ultimamente È questo Forse Col senno di poi Cioè A seguito Di tutto quello Che c'è stato Forse era Forse il termine Più giusto Per chiamare Quello che stava succedendo In realtà Diciamo che Diciamo che Dopo Non 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 Dopo 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 In cui È comparso Questo Tra virgolette L'hey style Nessuno Si è preoccupato Più Di definirlo In nessun modo E questo Ha fatto sì Che potesse essere Molto Fuorviante Che insomma Lo è tutt'oggi La I bordi Tra virgolette Di questo Di questo stile Perché per l'appunto Stavo dicendo Cioè ci sono Sarebbe bellissimo Se qui Apparisse Un quadratino Con dei Con dieci video Tipo dieci secondi Di dieci video diversi Delle dieci persone Random Con cui io studiavo Nel 2010 E stilisticamente Proprio perché Tutti provenivano Da culture diverse Uno era Waiano L'altro era Di New York L'altra era Per caso ce n'era Uno filippino Assolutamente Per caso L'altro era filippino Quindi quello che voglio dire È Sì che per me Questa cosa Ignorantemente Anche a 19 anni Era l'America Ok Poi però Crescendo Chiaramente Sono andata A guardare Un po' nello specifico E realisticamente Quello che c'era Di più vero Era che loro Se lo vivevano Anche fuori Dalla sala Cioè quello che io Percepivo come Più vero Erano i loro modi Di fare Le loro posture Il loro slang La musica che ascoltavano Quando stavano in macchina Banalmente E tutte queste diverse culture Appunto erano tutte Accumulate da una Simile attitudine Nonostante questo Poi a livello coreografico Potesse riproporsi In un modo Molto diverso E quindi quello Dell'America Mi ha colpito moltissimo Perché era una roba Che io la chiamavo In un altro modo E la vivevo In un altro posto Cioè ero io Sul muretto Al parchetto A 15 anni Che mi sentivo Street E sono andata E sono andata lì E ho visto Dentro questa etichetta E ho detto Epic Wow Però per dire Lui Nell'Lay style Non c'entrava Minimamente nulla E l'Lay style Era una tipologia Era tipo Mezza fetta Cioè Mezza torta Non mezza fetta C'era tipo 50% delle cose Che andavano bene Dentro l'Lay style Anche per esempio Perché banalmente Veniva collegato Faccio un esempio Pratico L'R&B All'Lay style Quando la musica Che io ballavo Flaminia Era tutt'altro Che R&B Mi piaceva Basta Rhymes Io montavo Su Basta Rhymes Che non c'entra niente Con l'R&B Però era L'Lay style Perché io ho studiato L'A Che ti dico Se l'Lay style Fosse Stata una definizione Per le cose Che vengono da L'A Forse Ci aveva mezzo senso Io forse la inquadravo Più in quel modo E che purtroppo In quel momento No E quindi poi dopo È stato depennato Come termine Perché poi Chiaramente Diatribe varie Stupidissime Perché poi Stiamo a parlare Delessico Quindi Che cazzo Stiamo a parlare Realisticamente L'errore Di affibbiargli Un nome Relativo al posto Per secondo me Giustamente Come si dice Aggettivare Cioè dare un connotato A quel tipo di danza Cioè Che paradossalmente Ti viene da ridere Se io sono Ad esempio Sono di Milano E dici Cosa faccio Milano style Cioè È incredibile Nel senso Io sono di Parma Faccio Parma style Cioè Io voglio sapere Parma style Perché secondo me C'è stato là il problema E mi ricordo Che vidi un video Di Mr. Wiggles Che raccontava Un po' di questo discorso Relativo all'LA style Questo stile LA All'urban dance camp Se non sbaglio E diceva appunto Che È un problema Proprio Di fatto che Tutto quello Che usciva da Hollywood E con Hollywood Ok movement Ma prima c'era la Debbie Reynolds Che purtroppo non c'è più C'era la Millennium E lì Che era completamente diversa Da quella che c'è adesso E lì il vero genere Cioè quello che abbiamo ballato noi Nei primi anni Secondo me Veniva dal cosiddetto Street jazz Cioè E quello che era street jazz All'inizio manteneva Le linee del jazz Vero e proprio Poi Ha avuto un'evoluzione urban Perché urban All'epoca Naturalmente usciva E con urban Comprendo naturalmente Quello che è l'R&B Quello che è Certo E secondo me Si è creato uno stile Ma è uno stile Che è nato Da certe figure Che l'hanno creato Nel senso Nel tempo È stato preso a modello Quello perché Perché in Italia Venivano quelli Esempio no Se so che chiamo Marti Kudelka Sean Evaristo Tutte le persone Che hanno creato Quel determinato Tipo di movement Piuttosto che i jabba Cioè quel tipo di movimento Secondo me Portava la bandiera di LA Ma secondo me È solo perché Perché come se dire Non so Siamo tutti qua a fare lezioni A un certo punto Quello che facciamo qui Si accomuna un po' Nella modo di ascoltare la musica O nella maniera visiva Di muoversi E quindi facciamo Lo stile Di questo posto qui Certo Quindi secondo me È stato più quello Perché sono convinto Che nel mondo Ci fossero tante situazioni Parallele di molta qualità Ma logicamente Essendo a Hollywood O comunque a Los Angeles Lì tutti lavoravano Cosa che in giro Per il mondo non c'è Gli artisti erano lì Gli artisti facevano le prove lì E quindi logicamente Secondo me è stato quello Il vero misunderstanding Cioè Nel resto delle situazioni L'hip hop O comunque la danza urbana Cresceva in piccoli posti Lì secondo me Essendoci la creme della creme È diventato una sorta Di centro Di raccolta Sì si è visto Che tutti quelli Che volevano poi lavorare Dovevano fare Quello stile E secondo me è stato Anche un po' sbagliato Da un certo punto di vista Perché come diceva Prima Flami Tantissime delle influenze Venivano da ambienti Che non facevano parte Della cultura di LA Venivano dalla giamaica Piuttosto che dallo stile New York Cioè attualmente L'LA che si balla oggi Chiamiamolo così Sbagliatamente LA È molto più influenzato Dalla scena new yorkese Come tipo di movimento Che dalla scena originaria Tra virgolette Del nostro Vivere L'LA style Quindi secondo me Aveva senso Per l'epoca Perché c'era Era una realtà esistente Il nome era completamente errato Secondo me Al cento per cento Ma io infatti lo capivo Quando gli americani dicevano No guarda Sono d'accordo Perché è come se Dall'altra parte del mondo Noi creassimo Una bellissima situazione qui Dove abbiamo artisti Che ci vogliono A lavorare con loro Ci facciamo al mazzo Facciamo un sacco di lezioni Creiamo un nostro modo Di vivere la musica E da di là Dall'altra parte del mondo La chiamano Roma style Cioè capisci che è Un po' insensato Soprattutto perché Il novanta per cento Dei cittadini di LA Dei ballerini di LA Non sono originali di LA Ma per niente Non verrò mai rappresentato Da una città Che non è nemmeno la mia A livello di origine Quindi Pazza come gli ero Deva il culo Desta cosa Questa cosa Io mi ricordo Che c'è stato un periodo In cui gli insegnanti Ci tenevano a dire Di dove erano Originariamente Per spiegare Però diciamo Per una motivazione didattica Ovvero per spiegare La tipologia di groove Che utilizzavano Soprattutto quelli Che utilizzavano Il linguaggio del groove Quindi che il groove Era fondamentale Nelle loro coreografie Cioè mi ricordo Che Hollywood Ci teneva a dire Che era portoricano Perché c'era C'era influenza di musica Del centro America Lui continuava Di solito A citare Il BPM Del merengue Che lui cercava Nella trap Che era una cosa folle Per me Cioè io Cioè quella velocità Era più o meno La stessa velocità Della trap Che coreografava E quindi Tutto quello che utilizzava A livello di bacino E di busto Tutti questi movimenti Circolari Diventavano tradotti In gruvetti piccoli Da fare su Future Tipo Oh che piccata Oggi Oggi non è che si spiegano Più di tanto Lì perché era Un momento in cui stava Tipo nascendo Questa Questo occhio di bue Sul Los Angeles E quindi ognuno di loro In realtà aveva un po' Anche il compito Verso se stesso Di identificarsi Con la sua voce Che è una cosa Che invece oggi Sono tutti tranquilli Che lavorano Sono tutti tranquilli Che oramai sono famosi Quindi gliene frega Quasi un cazzo di dire Lo sai da dove viene Il mio Tipo vabbè Ci sono 100 persone a lezione Dai è normale Anche ieri e anche l'anno prima E anche cinque anni fa All'epoca era tipo Oh mio Dio Ci sono 100 persone a lezione Fino a Un anno fa Nessuno sapeva chi ero Quindi ti racconto tutto di me Luther Brown diceva Delle sue influenze Della Giamaica Lui capito Era tutto molto più Importante Sotto il punto di vista Culturale Che da una parte È una cosa Che ci hanno sempre Recriminato Alcune altre invece Fette diciamo Della danza Fette intendo categorie Che invece è una cosa Che all'inizio Il coreografico Un sacco di coreografi Tendevano a raccontare Da dove venivano Determinate cose Eccetera Soltanto che noi Non ne abbiamo creato Un caso di stato È stato solo Parte della nostra formazione Quindi noi lo sappiamo Ma non è lì Che è il nocciolo Di quello che facevamo Invece in altre tipologie Di danza Sì E quindi Blah 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 Ok Invece Ricky Sempre la stessa domanda Principali influenze culturali Artistiche Che hanno plasmato Il tuo stile Allora Più o meno Ovviamente L'hai Sì Hai anche messo il risposto Però non so Se vuoi aggiungere qualcosa No Grosso modo è quello Nel senso che Da parte mia Il mio percorso E quindi Quello che è Il bagaglio culturale Nel vero senso della parola È molto legato all'America Anche per quanto mi riguarda Naturalmente A differenza magari di Flaminia Io Credevo molto di più all'inizio Nella mia Nel mio futuro Come ballerino Come performer Nel vero senso della parola Perché appunto I grandi stage Il ballare dietro i cantanti È sempre una cosa Che mi ha affascinato Perché la mia passione Proprio per la danza Nasce per quello Cioè per stage Michael Jackson Chi fosse Janet E il sogno era quello Anzi performance Performance Come dice Marina E quindi All'inizio sicuramente Il mio motore È stato quello Poi la cosa Che mi ha fatto cambiare E acculturare Diciamo nel vero senso della parola La voglia di scoprire di più È stato L'insegnare Perché naturalmente L'insegnare Mi ha donato La responsabilità Di dover per forza Andare a fondo Nelle cose Prima di trasmetterle a qualcuno E quindi lì Il bagaglio culturale Si è ampliato un po' di più Su quelle che sono Le tecniche vere e proprie Piuttosto che il background Un pochino anche Proprio della scena Dove nascono Certe cose Piuttosto che altre Naturalmente Relative più a quello Che è il mio Perché il tempo materiale Per andare a studiare Tutto non c'è Però diciamo che è quello Cioè almeno La cognizione di sapere Se faccio una cosa Da dove viene E nel momento In cui inserisco Un determinato mondo Nel mio modo Di capire la musica Devo capire Chi appunto Ha messo Dei paletti Storici Cioè nel senso Da qui è cambiato Da qui Lui ha introdotto questo E questo diciamo Un po' L'insieme Parte tutto molto Quindi dall'ambiente Dei big stage Come visione iniziale E poi si evolve Invece in tutto quello Che è il sottoprodotto Culturale Dei vari stili Che si evolvono Piuttosto che la scena New Yorkese Piuttosto Los Angeles Quel che è Ma anche Andando a fondo Su quella che è La situazione italiana Cioè chi c'è in Italia Chi è venuto prima di me Chi ha fatto cosa E quindi È sempre stata abbastanza Amplia la mia visione A livello danzistico Questo sì 100% Cioè le influenze Se ti dovessi dire Coreograficamente parlando La mia influenza Oggigiorno Non c'entra niente Con la danza Nel senso che Trovo più ispirazione A guardare dei bambini Che giocano nel parco Per la semplicità Con la quale vedono Determinati gesti E quindi Per quanto riguarda Invece L'altro canto Che è quello Non tanto della creazione Della coreografia Ma è quella di dire Faccio uno show Un prodotto vero e proprio Lì Vengo dal background Di quello che ho studiato Naturalmente Che è molto legato Al coreografico Piuttosto che alle stili del popping Piuttosto che Quindi gli stili funk In generale Per poi andare anche a fondo Su quelle che sono Determinate dinamiche hip hop Pur non definendomi Un ballerino Che fa solo Solo hip hop Solo questo Solo quello Quindi in realtà Il mio Il mio bagaglio culturale Aveva sempre l'obiettivo Secondo me Di rendermi più Efficace Nel momento in cui Crea un prodotto Perché secondo me Un prodotto deve essere Sia artistico In primis Però poi deve essere Efficace da chi lo guarda Cioè nel senso Se Puoi fare l'opera d'arte Più bella del mondo Però non è detto Che tu hai un pubblico elitario Che sa Quello che stai proponendo E quindi Tu tu Ce l'hai un tastino efficace Ti prego C'ho un tastino efficace Sì Però stavo sulla voce Quella bellissima Quindi Quindi ce l'ho E questa Quindi questo Questo secondo me Parte del mio bagaglio È proprio dovuto A questo tipo di concezione Cioè che Non c'è limite Al fatto che tu Possa conoscere Tante cose E utilizzarle tutte Soprattutto All'interno della tua arte È come utilizzarle La vera difficoltà È il vero Secondo me Obiettivo E successo Cioè nel senso Riuscire a creare Un prodotto di qualità Che possa portarti A fare la cosa più Urban del mondo Oppure più commerciale Del mondo Oppure Cioè capisci Questo secondo me È sempre stato Il mio obiettivo Lo dico sempre Cioè essere il più Poliedrico Poliedrico Mentalmente parlando Non tanto per il discorso Poi della No no certo Certo Non è che voglio fare 50 stili diversi Anche perché Secondo me posso dire una cosa Questa cosa viene un sacco Travisata Cioè quello che hai appena detto È È una cosa che secondo me Andrebbe molto Chiarita Perché Sembra che Se ti interessano 50 tipologie di danza Poi tu devi ballare In 50 modi Quando in realtà La cosa super importante È che tu abbia questo Come base Del tuo A disposizione Sì esatto Come base del tuo Atteggiamento Verso la cosa Che poi Da fuori Questo non si veda Non è rilevante Perché non è che Quello che l'arte è È solo quello Che si vede fuori È tutto il processo Di creazione Che se viene Da un punto di vista Così Ampio e pieno Poi che io ballo Uguale oggi e domani Magari nel frattempo Ho integrato con Il libro Che mi ha cambiato la vita Esattamente E qualche cosa cambierà A me non è importante Spiegarlo E farlo vedere Una chiave molto importante Di quello che ha detto Righi A parte ha detto 6-7 concetti Veramente fighissimi Concerti 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 A proposito di performance No Anche il fatto Guardare i bambini Che giocano al parco Mi emoziona Cioè quella roba È fondamentale Cito Mauro Della scorsa puntata Siamo la somma Di tutte le esperienze Che abbiamo fatto nella vita Che non sono le esperienze Quarta domanda Quarta domanda Quali sono stati i momenti Più significativi O le performance Più memorabili Della vostra carriera Uno a testa Perché se no siamo Andiamo lunghissimissimi Uno quindi Lo so Non è facile Però ve ne chiedo Uno a testa Un momento proprio Che non deve essere Forza una performance E ho ballato E ho fatto questa cosa Proprio un momento Della carriera Fino a mo Fino ad ora In cui dite Ok quello È proprio il mio momento Epic Per un motivo X Io te lo posso dire Allora il momento Epic per me è stato Che tipo arriva Una telefonata Un giorno per l'altro Per fare un capodanno Con Mariah Carey E Mentre Mentre è arrivata Io avevo una serata Con Mike Che organizzavamo Un LA night Totalmente Me la ricordo Totalmente organizzata Da noi Col pienone E lì proprio Ho guardato il cielo Ho detto Cioè più di così Nel senso che Sia come creatore Di qualcosa Organizzatore Hai successo Che come ballerino Vai con un nome internazionale Tutto nell'arco Di tre giorni Aspettando il capodanno Nel nuovo anno Eccetera Quindi lì ho proprio detto Sai che c'è Ce l'ho fatta Tra virgolette Nel senso sono proprio Sono felice Bravo Sono proprio felice Può capitare Qualsiasi cosa E io qualcosa Di bello L'ho fatto Quindi diciamo Che quello è stato Secondo me Un momento Sicuramente Tra i tanti Un po' di svolta Dove ho proprio Dotto wow Bellissimo Bellissimo davvero Stupendo Fla Che bravo Yeee Io dirò È il primo Che mi è venuto in mente Che non sapevo Essere uno dei momenti Cioè mi è venuto in mente Ora Quindi ne sto prendendo Consapevolezza ora Potrei emozionarmi Dunque ero A New York Vai facciamo la Ero a New York A ballare Madonna Che palle Vabbè Ero a New York E stavo ballando Praticamente Durante Rappresentavo Il movement Lifestyle Ok Io e un'altra persona Che ballava con me Che si chiama Eleonora Rappresentavamo Il movement Lifestyle All'interno Di una Circostanza Diciamo Dove il movement Era Come azienda Diciamo Era partner Di una serie Di altre aziende E aziende Chiaramente In quel senso Marketing Ma arte Era C'era anche un'asta Durante la sera Erano tutte situazioni Dove tipo Si esponevano I propri progetti D'arte E noi eravamo lì A rappresentare il movement E C'è stato proprio Un momento Era il trentaduesimo Piano Di questo palazzo Di Manhattan C'era tipo Tutta New York Ai miei piedi Era notte Tutte le luci Cosa E mi ricordo Un cambré Mi ricordo Questo cambré Che è durato Tipo Dieci ore In cui Ero lì così Con la testa Lasciata andare Dove A un certo punto Ho aperto gli occhi Ho detto Ma che cazzo Sta a succedere Sto a New York Un cambré Soprattutto Sì così Tipo sai che Mi ero rilassata Un attimo Ho detto Ma come mi ci ha portato La danza qua Come cazzo Ci sono finita qua C'è stato un momento Di iper consapevolezza Del Non lo avrei mai detto Non lo avrei mai potuto Nemmeno programmare Sono Tra l'altro No Ero in quel momento La faccia Dell'azienda Del mio mentore In assoluto Dall'altra parte Del mondo Io devi affosso Io vorrei sottolineare Il cambré Perché è tutto Da un cambré Esatto Raga perché capito Release Vabbè E mi ricordo proprio Che sono tornata Da sto cambré Con gli occhi Pieni De lacrime Perché ho detto Tipo Ma come cazzo Ci sono arrivata qua C'è stato questo momento Di tipo La mia danza Mi ha portato qui Avevo forse 25 anni Ne saranno successi 24 Ne saranno successi In altri 13 Dei momenti così Però quello è stato Il primo tipo Epico Strong In cui ho detto Micchia Va bene Io vi catto Veloci Su questa domanda Perché Le altre Adesso c'è un momento Abbastanza importante Però dopo le altre 4 Secondo me Sono belle Strong Quindi adesso Arriviamo al momento Quello più leggero No non ce la faccio più Sta per prendere la scatola Sta per prendere la scatola Si sta per succedere Esatto 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 Here we go again Lo sapete già Ve lo devo spiegare Spiegalo va Bigliettini Ognuno di noi ne legge uno a testa Ok Deve cercare di far ridere gli altri E non deve ridere lui Ok Il primo che ride tre volte ha perso Ok Il numero di bigliettini Questa volta è limitato Perché l'altra volta Con Mauro e Massimo Siamo andati avanti per 100 ore E Cristian Bello mio Stava svenendo Poverino dietro la camera Grazie Come sempre Quindi stavolta Il numero è limitato Abbiamo 4 Domande Cioè 4 battute a testa Ok Che possiamo leggere Poi alla fine Chi ha riso più volte perde Ok Ok Sei pronto? Leggo Non devo ridere Non devi ridere tu Ma stai già ridendo Ma come? No con c'è da seria Vai Sì ma che seria Ma che seria No io non ce la faccio così Così vale? Cioè Sì è tipo lol No certo 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 Il trattenere ci sta Vai Oddio mio Allora Questa mattina Ho dovuto lavare il caffè Era macchiato Ma che sei stupido Ma non ti permette Dove stava scritto che ci stavano I next level di Eh Ti è tabuca Ti è Ti è Non c'è La battuta E basta Non la battuta È il suono Sbagliato Ho perso Ma per un Per un'ingiustizia Vado eh Vai Leggo Torcicollo Sai cosa fa un wafer a un computer? Lo hacker Bella Bella Io devo dire Che questa la apprezzo Nella sua Nella sua Semantica Eh Sì sì Cri 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 Guarda Dammi quella scatola Prima che M'è incazzo Madonna Però carina Però carina Sto facendo degli addominali Sto facendo degli addominali Sto facendo degli addominali ragazzi Mega carina Spero di non farmi ridere da sola Oh mamma Questo è il mio Tutto sto foglio per Cosa Balla Un ottico I lenti Cambre 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 Mamma mia Mamma mia Ok Primo giro Direi Vai Erichy Non è male questo Lo dico già Ho finito le battute Che avevo in serbo E molti sì Ora comincio con quella in croato Vado Non era pronta Questa cosa Non era pronta Sono i suoni Che la distruggono Sì esatto Per quello che li sto usando Ho detto che sono i suoni Nessuno ha escluso la lirica Quindi la canterò Sai da chi è stato inventato Il cia 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 No Che cosa ho detto No No Però Scusa Scusa Questa non era parte Della battuta Però ti ho fatto ridere Però Non c'entra Non l'hai nemmeno finita Dai Ma il cia 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 Ma che fa Taglie porco Due taglie Toglie Toglie Due a uno Toglie Due a uno Comunque lui zero Ti sta mega bene No lui è fuori da questa challenge Secondo me il problema Trammette Non vale sta cosa Lora la leggo a lui Sai da chi è stato inventato Il cia 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 Sicuramente da un balbuziente Ancora non si sa Cosa volesse dire Sai cosa mi avrebbe fatto ridere Cosa Pensare a Jim Carrey Quando fa Il cia 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 Non vale sta cosa Non vale Non vale Una muccia cia Ma lei è già a tre Ha sbaglio Lei è già a tre Allora adesso hai vinto un premio Le vuoi leggere tutto tu Muffanculo Tiè Tiè Mucciaccia Mamma io Uno e uno stiamo Sapete qual è il colmo per un mango Mango io L'avevo prevista Sì tra l'altro Questa l'avevo pure letta Non so in quale puntata Però Vai prossima Vai vai Leggi L'ho riappallottolato Leggi Leggi Non avere paura Riappallottolamelo La più brava Ballerina russa Olanka Sbilenka Non me l'aspettavo questa Non me l'aspettavo proprio Aspetta aspetta Che modi faccio Vedi io E comunque è contro di me Secondo me Cioè è proprio dritta Dalla faccia Mucciaccia Sta zitto Poi Guarda male Fai gli occhiolini Vai Andrei va Eh eh Cosa fa una Cosa fa una cazzo di mucca Davanti a un computer In stalla Posso dire che mi faceva Per ridere la cazzo di mucca Lo puoi dire Cosa fa una cazzo di mucca Vai Io non respiro più Viaggia viaggia Io non respiro più Aumenta il ritmo Qual è il ballo preferito Ma perché io sto a fare così Che ho il microfono in mezzo E non leggo Posso fare così Puoi fare come vuoi Qual è il ballo preferito Dai pastori tedeschi Dai bassotti Eccetera Puto interrogativo Il can can Ci sta Quasi Quanti ne mancano Io sto soffrendo Non ce la faccio più Ho inventato Ho inventato Un cappotto Che va bene Per tutte le stagioni Quando fa caldo Basta Toglierlo Guarda che non vale Pensare i drammi Dalla tua vita No no Non vale Immagini Devi pensare a battuta Devi ascoltarmi Devi interagire Perché se no Come a LOL Te caccio Vai Attento Siamo in duritura d'arrivo Penultima Sì perché io sto soffrendo Io sto proprio soffrendo Qual è il colmo Per un miliardario Esprimersi In parole povere Questa era veramente Brutta Sì terribile Bruttissima Sotto terra Brutta Oh Questa mi fa Riderissimo Cazzo Questa mi fa Un sacco ridere Wow Questa mi fa Un sacco ridere Bella Finale Così potente Sai come si chiamano Gli aschi Che scappano Di casa Cazzo Pensaci un attimo Sai come si chiamano Gli aschi Che scappano Di casa Io purtroppo Lo so Mamma mia I fuggiaschi Fuggiaschi Eh ho capito Ma non devo ridere Sicuro che l'hai capito L'ha capito Perché se non ridi Non l'hai capita bene Che fa ridere Fa ridere Però Ma i miei muscoli facciali Sono bloccati Posso fare una cosa Visto che è finito il gioco Sì poi Parimeri Parimeri I fuggiaschi Allora abbiamo Sto provatissima Sei provata vero Dalle battute Sì Allora abbiamo superato La metà Io vi do Un preavviso Le ultime Quattro domande Che abbiamo Allora Sono sicuro Che potremmo parlare Tipo per 67 anni Però cerchiamo Di essere coincisi Perché diventa Sono molto Molto complicato Va bene Ok Allora La quinta Domanda È la seguente Mamma mia Già a leggerla Ragazzi Come è cambiato Il mondo Della danza Coreografica Negli ultimi Dieci anni E a che punto Siamo in Italia In questo momento Lo so Lo so Lo so Lo so Qui chi vuole Guarda Flaminio è diventata Autistica Nel frattempo Allora Vuoi iniziare tu? Vai Flami Dai Flami Non avere paura Allora Dunque Il mondo della danza In Italia Il mondo della danza Sa Innanzitutto Il mondo della danza Sa Che in Italia Siamo diventati Un pochino più consapevoli Del nostro livello Ok Quello che è successo È che l'occhio Si è spostato Generalmente Dall'America All'Europa Quindi Per questo Siamo un po' Meno annebbiati Sotto il punto di vista Del talento Però siamo Ancora Annebbiati Sotto il punto di vista Del Il talento migliore È sempre fuori Da questo paese Perché? Perché Altrimenti Ci sarebbero persone Più consapevoli Del fatto che C'è tanto Anche in Italia Dall'altra parte Credo che Questo guardare All'estero Come Il posto Dal quale andare A prendere informazioni Abbia sempre regalato Un punto di vista Molto umile Nel tempo E Per le persone giuste È stato È stato Un buon Tracciato Tra virgolette No? Però Anche Questo è un discorso Estremamente Diciamo Complesso Per cui Non tutti Possono approfittare Di questo punto di vista Per poi Effettivamente Far fruttare La loro carriera Non vorrei Tantissimo Entrare Cioè Secondo me Il fulcro È abbastanza questo Cioè Guardare fuori Guardare dentro Che cosa ho io Che cosa posso Fare Con quello che ho E Il fatto che si sia Avvicinato Dall'America All'Europa Questo occhio di bue È una buona cosa Dall'altra parte Io non ho ancora Vissuto ad oggi Un momento in cui L'Italia Si considera All'altezza Di poter lavorare Come Gli altri paesi In Europa In Europa E Internazionalmente Parlando Anche Asia E E quindi Mi dispiace Dire Siamo tantissimo Esterofili Esatto Mi dispiace dire Che poi Non ho ancora Vissuto Un momento In cui Gli italiani Si portano All'altezza Di quelli Che stanno fuori Anche se Sono forti Abbastanza Quindi Non hanno ancora Capito L'etica del lavoro Non hanno ancora Capito Tutto quello Che c'è in gioco A livello Mentale Percettivo Personale La carriera E se non L'hanno capito Perché qua Non c'è qualcosa Non è che Non lo slancio Veramente Di andare fuori Loro E prendersi Le informazioni Giuste Guardano fuori Ma non vanno fuori Tanti Quanti servirebbe Per cambiare Un intero Assetto Della nazione Ci sono sempre Quei coraggiosi E poi gli altri Stanno qui A guardare Quello forte Di Londra Senza sapere Che magari Se vanno a Londra Un mese Tornano forti Come loro Perché sono circondati Da persone Che si portano Proprio Sul lavoro E nell'arte In modo diverso Wow Ha preso Una piega inaspettata No Giuro Non mi aspettavo Questo tipo Di risposta Cioè Mi Mi riferivo più Ad una parte Veramente molto più Tecnica Della cosa Invece Mi piace moltissimo Questa risposta Invece tu Righi Che cosa ne pensi Di questa cosa Allora Credo che Ci siano dei tempi Finalmente Da un certo punto di vista Dove La visione Del fare coreografia È maturata Sotto il punto di vista Di dire Anche se sei Un ballerino Che ha ballato In battle Nei cerchi Fino a domani Puoi Puoi Credere Di poter Approcciarti Anche tu Al lavoro coreografico Cosa che una volta Era molto più difficile È vero Tantissimo Ultimamente Sta succedendo Questa separazione Netta tra Sono un ballerino Freestyle O Io sono un ballerino Coreografico C'era tanto E noi Da un certo punto di vista Pur essendo stati Anch'io sempre Con i piedi È brutto dire In due scarpe Ma Avendo vissuto molto L'ambiente Underground E anche l'ambiente Commerciale Televisivo L'ho vissuta Perché Ambo le parti Un pochino Disdagnavano l'altra In alcuni modi Di parlare Adesso Grazie All'estero Questo si può dire Ma all'estero Europa Per dire Ballerini molto forti Anche in freestyle Come sono Che ne so Lo Shea Sono diventati Anche quelli Che poi ti coreografano Gli artisti pop Commerciali E questa cosa qua Secondo me È stato da parte loro Un atteggiamento Molto maturo Di una nuova generazione Che sa che può fare Anche questo E Motiva Secondo me I nuovi ragazzi A capire che Non bisogna Ragionare un po' A compartimenti stagni Quando si tratta di coreografia Ma bisogna Imparare a coreografare Da chi è bravo a farla E imparare a ballare Tecnicamente parlando O In freestyle Se uno vuole fare la battle Da chi sa fare quelle cose lì Quindi secondo me C'è un po' più di cognizione Poi però Come diceva Flami C'è un lato Dell'esperienza E della maturità Dove vengono riposti Poi tutto quello Che hai imparato Che secondo me Ancora c'è da lavorare Ma banalmente Il fatto di essere puntuali Il fatto di Mettersi in regola Se vuoi fare questo di lavoro Il fatto di essere professionali Di rispondere subito Se uno ti manda una mail E Ci ragionavo proprio L'altro giorno Ho detto Faccio da tanti anni Do stanno le cicale Vai Muovite Forza No ho abbassato il volume Ce l'ho Ce l'ho Grazie Quindi Secondo me Quando si parla di coreografia Si va a prescindere Dal fatto che L'arte di fare coreografia Ha un fine Secondo me Che è O Creare una compagnia O Fare dei contest O Fare un corpo di ballo Per tv Cioè ci sono Teatro Ci sono tante sfaccettature Ma il prodotto Cioè non puoi fare coreografia Solo per fare le lezioni Di coreografico Cioè per me non ha senso È una follia E purtroppo secondo me Ci sono alcuni Che non Non maturano Cioè La capacità di dire Ma questa Guardano oltre Sì questa coreografia Poi dove cavolo la faccio Perché io Le coreografie sulla musica R&B che mi piace Di Party Next Door Di sta gente qui Le faccio le lezioni Ma poi non è che se mi chiamano A fare un lavoro aziendale Posso fare quelle cose Capito Quindi l'abilità Di dire Per ogni ambito Il ballerino Il coreografo Quindi anche chi insegna A fare coreografie Applica quello che ha imparato Va su vari campi Va applicato in vari campi Si riconduce tutto il fatto Dell'apertura mentale Di cui parlavamo Prima Infatti ti volevo fare Tipo una micro domanda Dentro È vero che questa cosa Non è Non è molto visibile Dall'assetto Del mondo del lavoro Che c'è Cioè quello che ti viene propinato Come modello lavorativo Per il quale tu credi Di doverti formare In un determinato modo Sì Cioè nel senso Queste robe non sono percepibili Se non da te Che ti prepari Per una cosa che non esiste Assolutamente Per cui poi Quando ti viene proposto Non conosci Cioè tu pensi di prepararti In un certo modo Per una cosa Ma non la conosci Però ti stai preparando Nelle direzioni Che vengono più o meno Definite come quelle Che se vuoi fare Lavoro con la danza Cioè O c'è il coreografo O c'è il ballerino Cioè io mi sono ritrovata A fare delle cose Nella mia carriera Per le quali Io ero pronta Solo perché mi ero data Più opzioni Di questi bianco o nero Che mi avevano regalato Esatto A livello No? Coreografo Ballerino Che ne so Due o tre divisioni In croce Poi qui farò partire Una diatriba Lo so già Perché comunque È una cosa che si Cioè è insordina Ma non viene mai trattata Però per quanto mi riguarda Al di là del fatto Che con Cioè Mi reputo fortunato Ad aver avuto tante esperienze Però secondo me C'è un grosso limite Che è molto in Italia Che è basato sempre sul fatto Che lavori In determinati campi Solo e solamente Se hai determinati canoni estetici E qui Tiro fuori un vaso di Pandora Però Questa cosa qua Influisce tanto sul fatto Che molte volte Chi è più forte Paradossalmente È quello meno bello Perché ha questo fuoco dentro Che vuole spaccare tutto E diventare un bravo coreografo Perché purtroppo Non vede un futuro lì Perché non si sente adatto Alla parte Ciao Sì Io nel mio Hello Un metro e cinquantasette Della seconda media Però capisci che lì Però sti cazzi Però capisci che lì Ci sono vari ambienti Capito Dove c'è la possibilità Di cambiare un pochino le cose Cosa che per esempio Non per autocitarci Ma io e Carlos Questo l'abbiamo voluto fare Volutamente Cioè Di prendere Per l'evento del Maraghetton Ballerini Tralasciando l'estetica Che può essere opinabile Bello o brutto Che sia alto o basso Ma non era quella la questione La questione era puramente Gente che nel suo Sappia fare Capito Ma infatti guarda Che lavorano anche Quelle di un metro e cinquantasette Nella danza Prettamente fatta Per quelle di un metro e settantacinque Perché hanno la cazzima Che Esatto La metà Della metà Della gente Dovrebbe imparare Ad avere Esattamente Perché hanno deciso Che facevano le ballerine Bravissima Quindi alla fine Potrei citare delle persone Tra l'altro Mi aggiungo A questo punto Alla parte Dove posso creare Insomma Della polemica Dicendo che Nella mia carriera Non da ballerino Né da coreografo Perché non sono nessuna Di tutte e due cose Ma Da punto di vista esterno Che ha lavorato In una formazione Per tantissimi anni Eventi Per tantissimi anni Tendenzialmente La percezione È che Quelli Più dotati Più bravi Più belli Oggettivamente Più Sono quelli Che mollano subito E sono quelli Che poi non vanno Da nessuna parte Sì sì Ma perché Secondo me Il problema è quello Che ti dicevo prima Non c'entra con la danza C'entra con il fatto Che se io Sono un'agenzia Sono un datore di lavoro Ti mando una mail E tu dopo due giorni Non mi hai risposto O ti mando un messaggio E non mi rispondi Io che ho in mano Tutta la baracca Non me ne frega niente Di quanto bravo sei Zero Ed è mondo del lavoro Cioè Esula dal fatto Che ci stiamo divertendo Cioè nel senso È come post covid Che tutti sono impazziti Oddio mio Adesso dobbiamo Metterci in regola Ragazzi Benvenuti È una cosa Secondo me Che proprio Stiamo qua a parlare Ma il mondo del lavoro E se vuoi fare Il ballerino serio Non tanto per un discorso Puramente fiscale Ma se non sei tu Il primo che ti senti Di fare una professione E sei professionista In quello che fai Cioè ci siamo già risposti Cioè secondo me Ci siamo già Attenzione Ci siamo già dati una risposta Quindi parlando proprio Del settore coreografico Per chiudere questa risposta Tecnicamente parlando Se uno è forte È forte Dico io Cioè nel senso Le skills Sono imprescindibili Dal fatto poi Che uno sappia Però poi secondo me Tanto sta nel fatto Di maturare Come diceva lei La maturità Di dire Se voglio farlo come lavoro Non solo devo essere bravo A farlo Ma poi devo essere bravo A impacchettare Tutto il resto Di relazioni umane Ma certo E di precisione Di puntualità E di visione Perché poi Quando arrivi a un certo livello Il fatto che tu faccia Dei bei passi Non frega più a nessuno No ma più che altro Una roba che io Lo giuro Ma io lo dico Un milione di volte Negli ultimi anni Ma anche se tu Arrivi ad essere La migliore versione Di te stesso Tecnicamente Sto parlando In questo momento Arrivi a fare 400 pirouette Ma tu veramente Pensi che nel mondo Non c'è un altro Che fa 400 pirouette Come te Esatto Quindi Dov'è la differenza Fra te e lui Se non in quello Che sta intorno A quelle 400 pirouette Che potrebbe anche Essere banalmente Percepirsi Non così tanto Prestazionati Creativi E dire la propria Unito con Tutta questa Per essere creativi E dire la propria Hai bisogno di un sacco Di roba in più Oltre al corpo Che sa fare le cose Esatto Esatto Va bene Ma che felicità Che felicità Queste risposte Io rido Perché leggo le domande Ma pensavo fosse Un altro bigliettino No 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 Quali sono le vostre Quali sono le vostre Opinioni Sull'importanza Della formazione Dell'istruzione Nella danza Urban In questo caso Specialmente in Italia Lo vedi Perché ridevo Lo vedi Non mi va Non mi va E invece sì E invece sì Ti piacciono queste domande Che ho preparato No no Per niente Io personalmente Che devo dire Io credo che Il fulcro Ho fatto tante cose Nella vita Ma la cosa Numero uno Che non è mai Che non ha mai perso Di centralità E di importanza È stato insegnare Quindi Sì ma Voglio il punto di vista Cioè non tuo No 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 Infatti 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 Su chi viene da te a lezione O comunque in generale Sulle formazioni Su come Allora No no Per dire che comunque È un argomento Molto caro a me Sì Ok Io Allora purtroppo Devo dire una cosa Oggi come oggi A farcela Per i prossimi tre anni Ce la puoi fare Anche senza formazione Perché a 16 anni Diventi molto molto bravo Perché hai fatto tanti workshop A caso E il tuo corpo È oramai troppo più pronto Perché ha visto più cose Perché Facciamo che sia tutto velocizzato Sotto il punto di vista Del corpo Ok Cioè il corpo Di una persona Mediamente Può diventare Molto più bravo Prima del tempo Prima di Sempre E Collegato a questo C'è anche Ci sono persone Che Possono chiamare A lavorare Anche soltanto perché sei bravo Con il corpo Facciamo così Che succede questa cosa Facciamo che però Se tu non sei bravo In tutte le altre cose Che solitamente In una formazione Più Approfondita Impari Duri Due tre anni E potrai fare un elenco Infinito Cioè facciamo finta Che faccio un elenco Che inizia 15 anni fa Quando ho iniziato A fare seriamente Questa roba Posso fare degli elenchi Di due tre anni In due tre anni Di tutte le persone Che hanno fatto Eee Ma in realtà Parlavamo Quando sono andato a prendere Stamattina Di chi parlavamo Proprio di meteo Ti ricordi Esatto Quindi che succede Succede che io non voglio Togliere la possibilità A qualcuno Di fare la meteora Ok Perché io non posso dire Sento che c'è un però Certo Perché generalmente Se tu mi dici Che ami quello che fai Se tu mi dici Che vuoi fare questo Nella vita Vuol dire che È una cosa Che tu vuoi curare Con quanto più amore E profondità possibile Con quanta più intelligenza Possibile E quindi poi Non vuoi fare la meteora Ma se le tue azioni Parlano Da sole E mi dicono Che tu vuoi fare la meteora Perché in questo momento Ci sono tot cose Che sono più importanti Della formazione Per te Vedi Follower Attenzione Lavori Sponsorizzazioni Quello che è Quello che è Diventato anche Una fetta Del mondo Del lavoro Attuale Io ti dico Fallo Ok Va bene Non stiamo facendo La stessa cosa Rispetto il fatto Che tu stia ballando Anche tu Dentro questa stanza Insieme a me Poi io sto facendo Un'altra cosa Per quanto riguarda Quello che consiglio Ai miei allievi È ovvio che Io posso Essere anche Soltanto Per la mia carriera La testimonianza Di una persona Che ha iniziato Ad insegnare in questo paese 15 anni fa E che ancora insegna In questo paese 15 anni dopo Quindi qualcosa di giusto L'avrò azzeccato Sotto il punto di vista Della formazione Della tipologia Di approccio Che ho avuto Proprio Alla danza Quindi È ovvio che Io personalmente Spingo sempre Per L'approfondire Per la cura Dei dettagli Che si ottengono Solo grazie Ad una formazione Più Cucita Addosso E quindi ci sono Dei contesti Dove andare a fare questo A seconda di quale danza In quel momento È importante Quale fascia Di apprendimento Stai cercando Se sei nella fase Della qualità O della quantità E questo Chiaramente dipende Se hai una persona Se hai delle persone Intorno che ti possono Consigliare bene Però in generale Non mi piace Essere univoca Rispetto al Quello che devi desiderare È di approfondire Quello che devi desiderare È una formazione Perfetta Perché in realtà Questo non si addice a tutti Perché tutti possono Iniziare a ballare E continuare a ballare Nella loro vita Come vogliono E se tu vuoi fare Questa cosa per quattro anni E poi affassionarti Ad un'altra cosa Nel frattempo Hai la possibilità Di sfiorare Il mondo del lavoro Non so come dire Se vuoi un approccio Più superficiale Prenditelo Però secondo me Ci vuole coscienza No non lo sanno Certo che non lo sanno Ma io li lascio liberi Di fare Perché poi Quando cominciano A scendere E se ne rendono conto Poi vengono a lezione Da me And I'm like Ah hello Però ti ho lasciato La libertà Di capirlo da solo Non mi piace essere pedante Rispetto a questo discorso Della formazione Perché credo Che ognuno abbia la possibilità Sì esatto Che ognuno abbia la possibilità Di testare da solo Perché da una parte è bello Essere accompagnati Ma dall'altra Ognuno ha il suo percorso Quindi se ci sono delle lezioni Della vita Che devi imparare Forte forte Per esempio Che tutto Deve essere fatto Tutto quello che dici Che ti appassiona Deve essere fatto bene Perché tu lo vuoi fare bene Perché a te Ti appassiona talmente tanto Che tu lo vuoi fare bene Che ti eccita talmente tanto Stare dentro questa cosa Che la vuoi approfondire La vuoi smembrare La vuoi capire Meglio Se tu non senti questa cosa Vuol dire che può essere Che la danza Non ti genera Questo tipo di sensazione Quindi perché io ti devo fermare Dal capire questo Spingendoti Contro un muro Dicendoti Se non ti alleni O se non ti formi In questo modo Cioè ognuno ha il suo percorso E questa cosa però Organicamente verso L'arte O verso Le proprie passioni Va capita da soli Non te la possono insegnare Perché è un'esperienza È un'esperienza di vita Che va fatta appunto Secondo me In modo Non troppo forzato Anche perché Ci sono tantissime persone Che sono state forzate A fare accademie E che poi sono usciti E che hanno smesso Perché gli è venuta Talmente tanta ansia Non era talmente per loro Quell'atteggiamento Che sono scappati via Dalla danza Correndo Anche se erano bravi Quindi no Non credo nella formazione In questo senso Credo nella formazione Perché Uno si deve ritrovare Deve rispecchiare Se stesso In una tipologia Di formazione Quindi se ti rispecchia Un tipo di Formazione Più superficiale Per lo meno Prendi una consapevolezza Perché poi i risultati Che avrai Sono superficiali Che significa anche Lavorare per due anni Per me Lavorare 15 anni Non è superficiale Per me Lavorare Per esempio Lavorare per due anni E poi smettere Perché non hai avuto Abbastanza modo Di mettere delle fondamenta Nel tuo lavoro Per me È rispecchiante Di un atteggiamento Superficiale Quindi Poi ci sono anche Tante persone Alle quali chiedere consiglio Se vedi una persona Che lavora tanti anni Qualcosa avrà capito Vai a chiedere qualcosa Ma nessuno chiede più niente Vabbè È un argomento Che ti Mi rendo conto Che è un argomento Che ti appassiona molto Non ti voglio Tagliare Però Volevo anche sentire Che cosa ne pensa Richi Di questa cosa Allora Io credo molto Sulla base sua Che il comune denominatore Perché le cose vengano bene In generale Sia la passione Quindi La Prendere parte A percorsi Accademici O paracademici Nel senso Qualcosa che sia Continuativo Secondo me Non è mai Tra virgolette Da un certo punto di vista Una scelta sbagliata Nel senso che Ci sono ormai Troppe Quasi Troppa scelta Nel senso Ognuno A suo modo Può trovare Il proprio ambito Di formazione Che più Gli interessa O dove vede Che avrà più sviluppo L'importante È non essere illusi Del fatto che La parola Accademia Che secondo me Per quanto riguarda La danza urban Il nostro settore È abusato Questo Lo sapevo Bravo È vero È vero Non c'è altro modo Purtroppo Per definirlo Perché Lo definiamo così Per convenzione E ci sta Però secondo me Deve essere sempre Molto cosciente Il fatto che È solo un percorso Di studi Più intenso Rispetto ad altri E più Tra virgolette Obbligato Perché giustamente Hai investito Tanto denaro E quindi Le lezioni ci sono E devi andarci Però questo Secondo me Non è Assolutamente Da portare In palmo di mano Rispetto a un percorso Che una persona Potrebbe farsi Semplicemente Facendo delle lezioni Private E investendo I propri soldi Magari Capendo Anzi Se fossi io Che devo consigliare A qualcuno Gli direi Guarda Quanto ti costa L'accademia Metteteli da parte 8 anni E chiama tutti questi E fai lezione privata Con loro Se vuoi Abbreviare Quello che è il tempo Per riuscire ad acquisire Più nozioni possibili Nonostante l'accademia Sia comunque Grande come numero Di iscritti Però Secondo me è così Quindi Non deve esserci l'illusione Che l'accademia Ti faccia lavorare O che l'accademia Ti dia proprio Quel risultato Faccio l'accademia E quindi sono formato In qualcosa Sai forse dove trovo Perdonami se ti interrompo Dove trovo un piccolo bug Forse in questa cosa Cosa dici? Che l'accademia Nel bene o nel male Ti forza a fare una cosa Sì sì Molto spesso Ho incontrato Ballerini Che magari Oh ciao Mi sono trasferito a Roma Perché voglio studiare Certo Però non mi voglio sentire Legato ad una realtà Quindi ad un'accademia A pagare dei soldi Quindi decido io Di studiare liberamente Di farmi le open class Che voglio E le lezioni che voglio Questa roba Molto spesso Si perde E poi non fanno niente E poi alla fine Perché non hanno Una sorta di linea guida E non torni da me Che se non era per loro Non lo avrebbero comunque fatto O avrebbero finto Che gli andava Facendo l'accademia E poi uscivano dall'accademia E comunque gli è crollato È assolutamente così Però il problema È che io vedo Che attualmente È quasi impossibile È difficilissimo Trovare un ballerino Giovane Che viene E ha la testa Sulle spalle Per dire Studio in maniera Continuativa Studio queste cose Perché mi piacciono E voglio fare queste cose Comunque questo Non c'è solo nella danza C'è anche Quanti universitari Ci sono No È tantissimo Questo secondo me È proprio uno specchio Nella società attuale Sì esatto Purtroppo Non portare a termine Gli obiettivi E non mettersi di impegno Per fare qualcosa Sì quella superficialità Nell'approcciarsi a una cosa Non vogliamo aspettare più niente Non si può aspettare Un risultato E poi una cosa secondo me Anche tanto sbagliata Che percepisco È che Tante persone Che sono forti In quello stile In quel modo di ballare Vanno solo a imparare quello Questa è una roba Che mi ha fatto sempre Tanto ridere Sì io voglio Nel senso che Faccio solo le classi Di quello che è più affine a me Allora quella parte Cioè quella parte Dell'apprendimento Te la sei completamente persa Di andare a imparare qualcosa Che non sai fare Ma nessuno Ormai vanno solo a fare le lezioni Dove sono bravi Bravo Perché è tutto figlio Anche là della cultura del video Dopo quando è finita la lezione Social Certo Quindi secondo me Qui apri diciamo Una discussione Che è basata su Fino a che punto Voglio spingermi A diventare qualcuno E a crearmi la mia identità Perché se anche Se voglio fare questo Così come Nella scienza Un esperimento Che non porta risultato Ha lo stesso portato Il risultato Perché continua A non ricercare lì Certo Quindi lo stesso Dovrebbe essere Secondo me Nel percorso di danza Cioè una persona Dovrebbe anche Affrontare qualcosa Che non gli piace Per capire che realmente O non gli piace O che qualcosa Che gli piace All'interno di quello Ci può essere Capito Quindi forse aiuta Nel fatto dell'accademia Di avere una molteplicità Di lezioni diverse Di cose magari Che non ti appassionavano E che scopri Certo E che magari da solo Non avresti mai avuto La voglia di andare A capire Però da un certo punto di vista Ripeto Non deve essere No no è ovvio Che ci sono pro e contro In entrambe le situazioni E poi c'è sempre Vabbè Nel senso A mio modo di vedere Non c'è Nel mondo urbano Una mentalità accademica Come può essere Quella del balletto Ma neanche lontanamente Capito Quindi sono Cioè tipo Una cosa che dici Ok la facciamo Perché c'è bisogno Di formarli un po' di più Però anche là Dopo vai a guardare Il corpo insegnanti A volte Dici Sì ok Magari per un 70% Per un 30% Possono essere anche Persone adeguate A far crescere Queste ballerini Professionalmente Altri magari ti fanno La stessa lezione Che fanno Così Ampassando Altre parti Cioè ci sono Tante situazioni Dove dici Dipende da tanti fattori Secondo me in Italia C'è tanto la voglia Di farlo La voglia di dire Ok faccio Quell'accademia Ok lo faccio Però poi C'è sempre un discorso Un po' di Fino a che punto Giova All'organizzatore E fino a che punto Giova Allo vero e proprio Studente Capito Ah vabbè ma quello Ci sarà sempre Se trovi il punto D'incontro Tutti hanno soddisfazione Perché tu ti crei Un parco di nuovi ballerini Che domani possono andare Nel mondo del lavoro Qualsiasi lavoro Pronti Però ripeto Come diceva anche Fla Non è detto che Cioè Rischi che poi si perdano Perché hanno studiato Controvoglia Capito Allora Allora E qua purtroppo Non potevo non farlo Danza E social network In che misura Questi influenzano L'attuale comunità Pro e contro Secondo voi Vai Gioia Inizia Vabbè io parlo velocemente Perché è un argomento Con il quale ho già discusso In altri ambiti Secondo me Oggigiorno Una È necessaria All'altra Nel senso Il social è necessario Non tanto alla danza In generale Ma alla conoscenza Di quello che è il tuo Microcosmo Come ballerino Come professionista Appunto Quindi non si può pensare Da un certo punto di vista Oggigiorno Di fare Questo lavoro Prevedendo di non avere Nessun tipo di portale Dove il tuo lavoro Viene messo in mostra Anche Al pubblico In generale Quindi Secondo me È un grande strumento Va utilizzato con testa E Non faccio nomi di social Cavoli Eccetera Però Alcune Piattaforme Sono più utili Rispetto ad altre Io sono cresciuto Con la generazione youtube Dove tutti i coreografi All'epoca Facevano tutti i video concept Io stesso all'epoca Ne facevo un botto Investivo un sacco di soldi Lì In video Lunghi Minifilm Poi adesso invece È tutto più immediato Quasi ti rende di più Fare il video della lezione Così Piuttosto Anche perché non se lo vede Nessuno Perché è tutto Quindi secondo me È solo cambiato Il modo di approcciarsi Però è necessario Secondo me Anche solo io sono Un grande fruitore Dei video di danza Perché semplicemente Mi fa capire cosa c'è Quindi mi fa conoscere Altre persone Che ballano Mi fa anche influenzare Sotto un certo punto di vista Quindi Per me Sono necessari È il solito discorso Va usato tutto con testa Nel senso che Se diventano per te Una condanna Del tipo Oddio non ho fatto le views Cioè Auguri Hai già perso Assolutamente Per me è utile Perché per me È un modo anche Per vedere Per pubblicare Io sono uno che usa i social Proprio liberamente Pubblico canzoni che mi piacciono Video che vado in giro A fare sport Cioè non ho Però uno che inizia adesso Dico sempre Deve mettersi nell'ordine Di idee Di costruirsi una pagina Che anche Un po' professionalmente Rispecchi O una seconda pagina Un po' professionalmente Rispecchi Quello che è Il suo mondo Cioè Non senza obblighi E senza Paure Di mettere in mostra Perché alla fine Anche quello è una vetrina Che mette in mostra Chi sei Se sei una persona genuina Si mostra la tua genuinità Se non ti pesa Il fatto delle critiche Di quelle cose lì A un certo punto Pubblichi in maniera libera E non ti interessa niente Quindi secondo me Ci vuole forse Una determinata maturità Per arrivare a questo livello Come in tutte le cose Esattamente Però ripeto Sono il male Da un certo punto di vista E sono un grande strumento Perché non conosceremo Chi c'è Ad Amsterdam Adesso che spacca Non guarderemo Chi c'è di là A Tokyo Chi è forte Quindi il livello Secondo me è molto alto Anche perché la gente Ogni giorno sta lì Dici Madonna questo E si mette E quindi Io do un grande Merito ai social Sotto questo punto di vista Perché anche a me Influenzano tantissimo Però da un certo punto di vista Ripeto Possono essere anche Gestiti in maniera sbagliata Quindi questo secondo me È il mio approccio Estremamente d'accordo Estremamente Fla Mi collego A quello che dici Rispetto Al Mettere nei social La propria personalità Liberamente Quello che a me Preoccupa in realtà Di quello che Percepisco Dell'utilizzo dei social È il contrario Esatto Cioè io mi creo Una personalità Sui social E mi prendo Quella personalità E me la porto Nella vita Quindi la gente Si comporta Nella vita quotidiana Come il personaggio Di Instagram Uno parlando Di Instagram O dei social Continuamente Integrandoli Eccessivamente Nella loro esperienza Quotidiana Quindi proprio Come se non esiste Una scissione Cioè quello non è più Un mezzo Che tu utilizzi Quello è Quello sei tu E allora per me Quello è proprio Da tenere Da tenere Assolutamente Da tenere assolutamente A bada Cioè e lì Non mi importa Serve consapevolezza Non serve consapevolezza Secondo me serve Sensibilizzazione Proprio Rispetto a Cosa significa Essere qualcuno In una In una Rete Ed essere Chi sei tu Nella tua vita Cioè secondo me Proprio serve Serve assolutamente Ricordare A queste persone Che investono Tanto Qui Che C'è anche Cioè il contrario È la cosa Che devono Imparare Perché Sono nati Con i cellulari Tutta la generazione Nuova è nata Con i cellulari Quindi loro Non devono Abituarsi Ad avere Il cellulare Come è potuto Accadere A nostra Generazione E più Su di noi E il contrario Devono Disabituarsi A vivere In funzione Del fatto Che esistono Online Quindi Io credo Che questo sia Anche un grandissimo Deterrente Per la ricerca Creativa Perché Che succede Se tu sei Fatto in un determinato modo Online Studiato da te Tolti Tutte le tue Paure Tutte le tue Insicurezze Tutte le tue Debolezze Tutte le tue Sfaccettature Più storte Più sporche Che sono quelle In realtà Del quotidiano umano Tu poi Nella vita Appena ti percepisci Con una di queste caratteristiche Che sono fondamentali Per l'errore creativo Per la ricerca Cioè tu devi Sbagliare Essere storto Per la ricerca della perfezione No? Quindi Quando si percepiscono così È un fallimento Incredibile Cioè io sto parlando In questo modo Dopo aver accumulato Anni e anni Di Confronto Con tutta una generazione Giovanissima Di miei allievi Quindi quello che sto dicendo Lo sto dicendo Perché lo riproduco Dalle cose che mi hanno detto Ok? O dalle domande Che mi hanno fatto Sempre inerenti a questo tema Quindi secondo me Il punto non è Il fatto che Instagram È una cosa incredibile Per lavorare O il fatto che tu possa far vedere A tutto il mondo Cioè io ho degli esempi Cioè Match Nungasar Ha lavorato con Rosalia In tour E tutta la sua carriera È partita In quarta Dal fatto che lui pubblicava Dei video Delle sue coreografie Su Instagram A me mi ha contattato Elisa su Instagram Ciao Mi piace tantissimo Quello che fai Mi fai lezioni private Cioè sono delle cose Che possono accadere In una percezione Questa è la parte bella Ok è meraviglioso Ma io non sono Quando tolgo il mio telefono Io non sono La persona che Elisa ha contattato Elisa non sa niente di me Match Nungasar Non è la persona Che Rosalia ha contattato Ok quindi La sintetizzo In maniera Brutta e veloce Secondo me È quella famosissima frase Che avrete sentito Un milione di volte Chi sei Quando nessuno sta guardando Esatto Chi sei realmente È la differenza Da persona e personaggio Esatto Sì 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 priorities Sì 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 sìo ici